In questa due giorni di sport e divertimento l'agenzia generale di Cantu vuole occuparsi di una tematica molto molto importante, è quella del reclutamento. Io sono Pier Giorgio Calice, responsabile per l'agenzia generale di Cantu e sono continuamente alla ricerca di persone motivate e disposte a mettersi in gioco per quelle che possono essere le opportunità che profite questo tipo di professione. Divertimento, sport e famiglia sono dei valori chiave all'interno di questa edizione di questo torneo di Black Court, giusto? Sì, la partecipazione devo dire che è quella che ci aspettavamo. Il supporto che sta dando il nostro team si nota, il gioco di squadra è la parola chiave di queste giornate. Tu a Milano non mi hai riuscito a fare una roba così, solo Cantu. Che cosa vuoi che penso? Benissimo. No, sono arrivato un po' tardi, ho perso le prime partite perché con gli autovelo svado piano. Siamo qui in compagnia di Elia, il vincitore del pallone sponsorizzato da Generali. Elia, sei felice di questo premio? Sì, sì, sono molto felice. Benissimo, la tua squadra come sta andando? Andando molto bene. Perché tirare da due quando un metro più indietro vale tre? Questa è la regola della vita. Ringraziamo Generali per lo sponsor, grandi, organizzazione efficiente. Io innanzitutto sono felice di partecipare e di vedere questo sano agonismo nei ragazzi che partecipano oggi. Credo anch'io che nel lavoro sia fondamentale avere quotidianamente motivazione e carattere. Questi sono fondamentali per poter raggiungere il successo e i propri obiettivi. Come manager mi impegno a diffondere quotidianamente questi valori, ok, i miei ragazzi, facendo così in modo che entrino nel mondo lavorativo con il giusto spirito e possano anche loro diventare i futuri manager. Io voglio soltanto cogliere l'occasione per poter far credere alle persone che sono interessate a questo tipo di lavoro di mandare le loro candidature, venire a trovarci presso i nostri uffici e capire i fini in fondo quale può essere il lavoro che noi svolgiamo. Credo fondamentalmente che Generali sia un'azienda che crede fortemente in quelli che possono essere i valori che noi giovani stiamo cercando di tramandare e spero soltanto che voi possiate venirci a trovare oppure mandare il vostro curriculum a selezione-inacantu.it. Grazie e buon pomeriggio.